buonasera italia io sono alexander presidente della federazione pullman honk for hope abbiamo combattuto per molto tempo per la sopravvivenza del nostro mestiere nei tempi della pandemia abbiamo organizzato protesti in vari paesi volevamo ottenere aiuti statali che non ci sono stati accordati il primo agosto abbiamo capito che chiedere colui che vuole distruggerti non fa senso nei termini di aiuto bisogna eliminare la ragione del problema la ragione del problema secondo noi è che ci tolgono i diritti fondamentali i diritti del cittadino tra l'altro il diritto di viaggiare liberamente tutto questo con il pretesto di proteggerci contro un virus abbiamo analizzato ed esaminato il movimento di pace ed abbiamo deciso di aggregarci di aggregarci ad una lotta per i diritti fondamentali del cittadino e vediamo in questo l'unica strategia valida per assicurare la sopravvivenza permanente del settore del viaggio in pulman turistico in questi ultimi giorni nei paesi di lingua tedesca circola un annuncio di un'azione paneuropea noi questo lo interpretiamo come democracy day giorno della democrazia si agisce di un'azione focalizzata sul blocco di strade critiche in europa intera per un certo periodo ci chiedono se noi come associazione come federazione appoggiamo il progetto e l'idea la risposta è sì quest'idea la appoggiamo come mai i metodi normali di protesto non ci sono più aperti non ci lasciano più riunirci in piazza per manifestare ci chiedono le mascherine ci chiedono la distanza tra le persone ci chiedono questo e quello in fin dei conti ci trattano come una gregge spingendoci tutti l'uno contro l'altro per avere poi un motivo di usare l'acqua buttare acqua su delle persone quando fa freddo non è buono per la salute questo lo sappiamo tutti non bisogna essere medico per dirlo non vogliamo contribuire a propagare un virus non vogliamo nemmeno contribuire a mettere in pericolo i partecipanti delle nostre azioni comunque non vogliamo rinunciare al nostro diritto di esprimere la critica verso delle misure di protezione completamente arbitrarie e in grande parte poco logiche perciò portare il protesto fuori delle città bloccando certi certe vie di trasporto critiche in Europa intera ci sembra infatti il metodo di protesto giusto per i nostri tempi siamo sicuri che questa azione sarà eseguita con grande cautela per non mettere in pericolo la vita di gente sulla strada perciò vi invitiamo tutti a raggiungere sul servizio di messaggeria telegram che potete trovare e scaricare su telegram.org il canale dell'azione dday 2.0 e di aspettare insieme a noi le istruzioni precise che ci saranno pubblicate grazie a tutti io sono alexander presidente della federazione di pulmanturistici hong for hope